Io credo che avendo vissuto il riflusso, io quando adolescente negli anni 70, 20 anni nell'80, nel 79-80, in retrospettiva è come se avessi vissuto questa cosa qua, nel momento in cui tu cresci e comincia a maturare una consapevolezza anche di come stare nel movimento, adesso interagisci, per me è stata come arrivare a una festa nel momento in cui si spegne la musica, si spegne le luci e come tutto è finito, cazzo, scusate, sono arrivato tardi, no? Capito? Come mi siete fatte la bella vita? Un pochettino si l'ho fatta, però, nel 79-80 proprio, dopo Nel 79 aveva 19 anni, capito? C'è una sensazione di dire, ma c'è qualcosa che, cos'è questo riflusso, ma siamo pazzi? Scusa, mi stavo giusto giusto e cominciavo a divertire, cioè divertire, a avere consapevolezza, un po' di... no, è finito tutto. Maggio 78, Moro. Ecco.